Capitolo 5 Say Yes More Oh no And family says yes to each other. Family helps each other, grows together. It's time for all of us to open up, to become real team players. It's time to say yes. Do you sometimes feel like you're trapped in a cage? Fun fact, the cage is a metaphor. Life wants to cage you, but you've got to break free. Be yourself. Let's see what we have. Be as weird, as strange, as normal as you really are. Break through this metaphorical cage of life. How? With a wacky no! Yeah! Swap to a wacky no by doing this. Yotesu! Oh mio dio che figata! Yotesu! Yotesu! Ohohoho tia! Bellissima! It's time to learn how to respond to requests from co-workers. Sarcastically! Use that time to consider everything you'd rather be doing instead. So do this, to go.. bellissima bellissima oh no oh no oh 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 Che persona orribile Non c'è pausa Sì, non è vero che la mia testmate è sempre sniffflinge? Si ho provato molte cose, ma è sempre sniffflinge. O è l'unico? O è l'unico? O è l'unico? O è l'unico? Sì, sembra che la mia testmate è un colt. È molto normale. Oh, è l'unico? Sì, potrebbe ottenere una medicina per lei. Un piacere caldo. Molto tessi. Questo dovrebbe aiutare. Sì, non è normale di lavorare quando sei illa. Lei dovrebbe andare a casa. Ho detto. Ok, vediamo la risposta di A. Tu! Ciao. Cosa. Noi, una persona più riguardo, una prima volta di parlare. Doi dovrei andare ad un po' di partita? Non voglio andare, anche se mi piace ai miei. Sì, mi piace. Ma non è abbastanza di farlo per loro, così, ma. E' vissuto. Bisogna andare? Eh, eh. Cosa, ho pensato. E' vero! e se ne va, e se ne va così oh no vai pinchano ahi a bichis eeeh batuta oh next question yeah i've got one oh it's the real the real third intern say you're the ceo and you've got a bad intern they're disruptive not open to feedback not working would you fire them no please stop breaking the set oh sorry oh no oh no oh no that's ready enough here comes the final round the fire pit oh no oh 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 Oh, 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 sorry, my dear audience, where did the time go? We have to wrap this up. Don't move me! Quick, final statement. Ah, go! Oh, um, please vote for me because, hey, come on now. Hey, you know you're being a jerk. Oh, come on now. Naaaaat! Well put. Noa, final statement. Go! Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Uh-huh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Nooo! Nooo! Wow! Your prize? Oh, thank you! Thank you so much! I want to thank you! che c'è la chambiera in panare Ehi, ora, questo è proprio bambino Calma, interno! Vieni a lavoro! No! Come? Come potessi! Un po' di help? Non ti... Super nooo! Ho un'idea Prendete con una nota, io ti dico Ehm 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 Grazie mille Puff Ehm 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 Oh nooo Ehm 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 E recti Ehm 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.